oh quanti vestiti sporchi ho accumulato! metto tutto nella lavatrice ancora un po' ce l'ho fatta a malapena mentre la lavatrice va cucinerò qualcosa di delizioso farò della pasta e delle polpette di pollo Kevin ama le cotolette oh la lavatrice ha finito così veloce? ora tutto da stendere oh! penso che qualcuno stia chiamando arrivo! cosa ci fai qui con le zampe sporche? devo pulire prima che barbie se ne accorga dove sono gli stracci? eccone uno! uh! ha funzionato! oh! Kevin! sei già qui! è quasi ora di pranzo! cosa stai facendo con il mio vestito? come mai è così sporco? non riuscirò mai a pulirlo! mi dispiace! l'ho scambiato per uno straccio! uno straccio? come hai potuto? era il mio vestito preferito! oh! calmati cara vuoi che andiamo subito al negozio a comprarne uno nuovo? sì! sì! posso averne due? ok! ma non piangere! guarda questo! guarda! ho già trovato il tuo stesso vestito! con i cuori! no! non ne voglio uno con i cuori! voglio un abito da sera a rosa! ottima scelta! ne ho appena comprato uno! ah! bello! ma ne scelgo un altro! ne scelgo uno argentato a pua! venga alla cassa! quanto costa? solo un secondo! 200 monete! pago con la carta! grazie per l'acquisto! buona giornata! tesoro! sei contenta? sì, Kevin! sei il migliore! devo indossarlo alla festa! vuoi vedere altri video interessanti? forse questo? oppure questo? che ne dici di questo? o questo? dai! scegline uno! sceglili velocemente prima che scompaiano! c'è stato un viaggio! l'acquisto!